e salve a tutti amici come l'anno e bentornati in questo nuovissimo video siamo su insurgency sandstorm era un pochettino che non lo portavo però insomma come video ecco mi è passato uno lì o è dalla finestra questa è una mappa che non ho mai fatto perché infatti è un bel po che non videogioco a insurgency quindi non conosco bene i posticini e mannaggia cioè io ho aperto il gioco e ho fatto partire il video cioè la registrazione quindi diciamo che urca ah anche da lì madonna queste idee possono arrivare da ovunque in questa mappa comunque siamo con S110 SAS spero che l'audio gioco e microfono siano bilanciati comunque SAS con merino olografico compensatore e sua mamma puttana e caricatore steso e grip per il rinculo orizzontale sono un compagno ma madonna l'avrei colpito cioè quando mi sono girato in quel modo vuoi dire che non gli è arrivato il colpo ciao amico quindi è morto uno dei nostri era morto non so dove guardare però non ho visto uno là sono già mega stanco cazzo madonna questo ciao amico già mega stanco GG vai avanti te vai 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 avanti te Red uh ti è passato davanti si era sdraiato eh l'intelligentone manco mi ricordo quale è il tasto per sdraiarsi colpisciò ok continuo ad uscirmi anche il coso dei tutorial eeeh da quale distanza mi pigli e niente 40 minuti a mirare comunque volevo dire anche una cosina veloce che il podcast probabilmente ci sarà l'ultimo episodio per sempre perché comunque essendo che ci vuole ci vuole un po' di lavoro per fare gli episodi di farli uscire eccetera e diciamo per per quante persone si interessano al podcast diciamo un po' tempo buttato via madonna credo sia tempo un po' sprecato che appunto posso utilizzare per fare altro come video su insurgency video in giochi VR o comunque altre altre cosine moldogarine e che probabilmente vi interessano anche di più come spero insurgency come si parlava non me lo ricordo però scusami qui c'è uno è un compagno vai 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 comunque questo gioco dovrebbe tornare oh che paura in voga ancora lui polundra tre sono minchia dovrebbero dovresti giocarci che spawn è questo dovrebbero giocarci un po' più di persone quindi signorini compratevelo e iniziate a giocarci perché c'è bisogno di più giocatori perché è un gioco veramente bello è fatto anche bene c'è roba peggio quello di prima che ho colpito io allora io sento altri passi sulla destra sarà il mio compagno ok però c'è qualcun altro qui sotto urca balurca 7 uccisioni 9 morti 10 morti continuo a sentire passi di gente che corre qui a sinistra eh niente senza senza mirare sono sono andato manco c'avessi un mirino laser bestia è ok ok round dopo c'ho l'altra armina guarda guarda cazzo ancora lui sempre in testa come esce in mira porca merda polundra cazzo livello 786 ma guardate che armina mi son messo mi son dimenticato anche di mettergli un mirino però oh merda in singolo eh cazzo ok 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 Ciao E Abdul Magic Fatti colpi ciò? Ok ancora un pochettini Ma c'è schiattato uno Sconfitto Altro giro, altra corsa Questa volta col cecchinazzo Sgravato pazzurdo M24 Yalla yalla Allora Che tra l'altro Questa è una mappa Una delle mappe che c'era anche Nell'ultimo video che ho portato Pog Urca Eh non mi ricordo le mappe Tua mamma senpai Tua mamma Però la mira No credevo No credevo Vaffanculo Credo si spostasse più a sinistra L'ha fatto dopo Qui c'è qualcuno Dov'è quel qualcuno? Lo sento E niente Non entrava in quella porta Ma andava Quello si è nascosto Oh 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 No Un colpo Via Piano piano Buono buono Si mettono i colpi Molto piano Molto lentamente Molto piano Il mio amico potrebbe prendere anche C Visto che è lì Però No problema Faccio schifo col cecchino Allora se Allora se L'ho ucciso? Sembra di si Sembra sia morto L'ho preso? L'ho preso? Non lo so Sento spari da là Ma non mi sembra di vedere Non ci sono pallini di compagno Ma Ma vaffanculo Sembra vivo Morto Non lo so Io Sparo Tomà Tomà Il compagno che mi aiuta Non c'è? Il compagno che mi aiuta Che è lì? Dove sei? Dove sei? Tutti con la MK18 Io sono lo stronzo col cecchino Che cerca di one shot La gente Senza riuscirci Quanti ne ammazzai tre? Ne ammazzai tre? Dai Vieni C'è il coraggio A non averci Il coraggio Vado piano piano Così Uuuuh So good in testi Uno a destra E l'altro a là sopra Porca merda FR Sappiamo tutti Che cosa pensare Degli FR Ma non lo dico Allora Allora Amici 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 Qua stanno morendo Tutti Oh 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 E vabbè Questo mi colpisce in testa Attraverso Tutto Tua mamma Eh 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 La sensibilità di Cristo Di normale Di un millimetro All'anno Mirando C'è uno L'ho sentito Un compagno Hello Hello Don Emir Che belli Amici Belli Amici Proteggete Il vostro Scechino Che protegge Voi Stiamo vincendo Le abbiamo dotte Tre Go Do Che cazzo Credevo fosse Ho colpito Sembra L'ho ucciso io Eh Niente Niente Troppo a destra Nella gamba Eh Vabbè Ce n'avevo uno Anche sopra Tanto Con lo zaino Più grosso Di lui Oh 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 L'ho visto L'ho visto L'ho visto Eh L'ho visto Eh Vabbè Porca merda Porca merda Bravo Livello 232 Uscito Dritto in testa Avrà fatto Tre kill Così Bella Popo Forse Devo aumentare Un pelino Di quando miro Con i cecchini Però come sta andando 8-6 Vabbè Dai Uh Uh Ciao amico Ecco quello che ha ammazzato qualcuno Chissà se quello là L'ho colpito Quello lì Deve essere morto Per forza Quello sopra Donna Passano tutti di là E ricarica dopo lo spawn Dopo una ricarica completa Per tenere un proiettile In più Bravo Is clear Orco boia Quello saltando È passato Boia dell'orso No No Cambiamo classe Dai Bene Ho preso un'arma Che non ho mai usato E niente Non ho mai usato Non c'è nient'altro da dire Quindi Ora vediamo un pochettino com'è Ok Spara È molto precisa Perché ha un ratio Molto basso Toma Toma Do stai Via Via Vaffanculo Più mi sposto E più mi vedi Cazzo Signor Spacca il tipo Ghi Ghi Questo nonno pomo C'ha Non so I filtri invidia Che c'ha Gli occhi di Cristo Porca merda Porca merda C'è nient'altro da dire A parte Porca merda Ammazzare il compagno? Si spera Come siamo messi A parte che stiamo vincendo Ghi 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 Ciao L'hanno ucciso Instant Di nuovo Di nuovo Minchia Minchia Che flick Cazzo Non mi ricapiterà mai più Fatto? Morto? Qualcuno di qua Quello è morto Si Ok Porca Porco Yumisaka Ah vabbè Vabbè Bravo lui a starsene lì Complimenti A quella zoccola di tua mamma Oserei dire C'è qualcuno qui C'è qualcuno qui Un compagno Au bucum Charlie Au bucum Vai Taylor Vai avanti te Dai vabbè Da ovunque Vabbè Easy Easy Ah è la 17 11 seconda partitella Ci sta Ci sta Arma prediletta M24 Anche se ho fatto di più Con le altre Ma Ok Comunque dai signori Siamo arrivati Al nostro minutaggio Di video E che dirvi Dai se vi è piaciuto Lasciate un bel mi piacione Fatemi sapere Se Ne volete altri Comunque Probabilmente Registrerò Qualcun altro Vediamo a Quante A quanta distanza Ogni video Portarlo dall'altro Di Insurgency Se magari Farlo diventare quasi Una cosa fissa Comunque Fatemelo sapere Perché ho visto Che è uno dei Tipi di giochi Che vi piace vedere qua E Mi sono anche Dimenticato di dirvi Di andare a dare Un'occhiatina Sotto in descrizione Per Per Qualsiasi cosa Soprattutto Codice sconto 5% Per G-Portal Grazie G-Portal Come sempre E quindi niente Dai signorini Noi ci si vediamo Al prossimo video Guardatevi Il prossimo video Del podcast Che sarà l'ultimo E quindi niente Dai E andatevi a vedere Anche quelli Dei giochi in VR Come Into the Radius Quindi Signori Per questo è tutto E riuscite alla prossima Ciao ciao